ciao a tutti benvenuti nel mio nuovo video oggi andremo a fare la pizza fatta in casa quindi cosa ci servirà? ci servirà 20 grammi di sale 70 grammi di olio extravergine un chilo di farina 600 ml di acqua e 10 grammi di lievito di beva ok con queste quantità faremo circa 5-6 plus dipende dalla grandezza allora per prima cosa andremo a mettere la farina in contenitore dopo di che andremo a mettere il lievito di beva e andremo a mettere acqua più o meno metà e andiamo ad impastare con le mani aggiungiamo il salto e mettiamo altrimenti ad acqua aggiungiamo piano piano anche l'olio postiamo sul tavolo copriamo e lasciamo così per 10 minuti passate 10 minuti andremo a lavorarlo ciao Grazie a tutti. Dopodiché entriamo a scoprire con questo trasparente. E lasciamo crescere per due ore. Sono passate due ore e mezza. Alla prossima. 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 Alla prossima.